Per anni siamo stati considerati il bersaglio, anzi siamo stati il bersaglio Meloni chiude a Treiu dicendo che io guadagnavo parlando di Camorra 18 anni di protezione fatta dallo Stato che lei rappresenta, un riferimento continuo, c'è il messaggio che loro hanno cercato di dare da sempre è proprio questo, non li ascoltate, lo fanno per soldi, non li ascoltate perché il loro obiettivo è impedire a te che col tuo lavoro possa continuare la ricerca, possa continuare a difenderti nei tribunali in cui loro ti mandano e cercare di toglierti spazio ed ci sono riusciti. Quando insider è stato chiuso non c'è stata la levata di scudi che oggi c'è per quello che è accaduto a Scurati, per due ragioni, primo l'antifascismo è come dire riconosciuto almeno dalla parte democratica di questo paese, non così l'antimafia, non così l'antimafia che non è così condivisa, anzi è scivoloso, momentaneo, pochissime voci, infatti insider che io ho realizzato, quindi prodotto, registrato e lì è stato presentato ai palinsesti e per vendetta fermato, ma c'è, sono carico di tensione queste parole le tengo in corpo da molto tempo, cosa fanno e cosa fa il governo? Una cosa molto precisa, il governo decide con me di fermarmi, di bloccarmi, anche le ospitate televisive, adesso per il libro sono state fermate, totalmente fermate. Meno male, così vieni qua. E che cosa allora voglio dire? E chiudo? Il messaggio è chiaro, è questo, in realtà se vi comportate come lui, farete la sua fine, il messaggio passa attraverso il mio corpo e quando è successo a me pensavano tutti gli altri, vabbè è un problema suo, perché Salvini, Meloni e altri, mi considerano un problema non politico, privato loro, loro devono annientare me per ciò che io rappresento e gli altri pensavano, vabbè succede a lui che ha questo tipo di rapporto, non succederà a noi.